Ragazzi, scusate se mi sono messo il cappuccio perché altrimenti mi prendevo un corpo d'aria e febbre e quindi ho mal di gola, ho mal di gola quindi non fai niente. Però è l'importante che dovete fare un'altra cosa e quindi raggiungiamo questi 200 iscritti quindi mi raccomando e facciate l'iscrizione a testa quindi iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e ti mando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti sia per l'impegno contro la Roma e contro il Friburgo che poi stiamo contro un'altra volta contro il Friburgo dal 19 marzo che rientra la domenica prossima e quindi clicco Inter. Quindi mi raccomando e di tutte di queste partite le commentiamo quindi solo questo e basta e un like a questo video come sempre. Quindi solo questo e vi ho ragione nel Se stop?